amici di news formula 1 buongiorno buonasera secondo di quando ci state ascoltando e benvenuti di una nuova puntata di formula 1 racetech news la rubrica di news formula 1 che segue le notizie nel momento in cui avvengono e partiamo subito con la prima notizia di oggi è di carlo vanzini il merito di aver dato una conferma definitiva alle voci che hanno impazzato nell'ultime settimane dopo l'annuncio di hamilton alla ferrari nel 2025 e le voci sono sapeva charles leclerc dell'arrivo di hamilton quando firmava il contratto la risposta dell'interessato a domanda diretta di vanzini è stata finalmente positiva a dirimere una volta per tutte la questione leclerc ha scelto molto bene le parole usate per la risposta e ha confermato di sapere di aver saputo prima della possibilità dell'arrivo di hamilton non tanto che l'affare fosse concluso naturalmente attenzione questo significa che al momento della firma leclerc ha firmato sapendo che ferrari avrebbe cercato di portare hamilton in scuderia quindi caso chiuso e possiamo andare a porre anche fine indiscrezioni comparse sui giornali in questo in questi ultimi giorni dall'altro lato del box science invece si dichiara sorpreso della notizia ovviamente anche nel suo caso conferma di aver saputo diciamo la bocciatura da parte di ferrari prima dell'annuncio del contratto con hamilton da parte della rossa ma rimarca il fatto di essere stato sorpreso della scelta anche per via probabilmente delle prestazioni che ha dei risultati che ha portato in questi ultimi due anni e devo essere sincero per certi versi lo sono anch'io quantomeno nei confronti di science ovviamente con hamilton ubi maio ma science probabilmente meritava una considerazione maggiore anche se non si tratta esattamente di uno dei miei piloti preferiti e veniamo mercedes protagonista del lancio odierno che tanto sta facendo discutere per via di alcune scelte abbastanza ardite soprattutto sull'anteriore e di un feeling della vettura che sembra molto molto più ardito rispetto a quello conservativo che abbiamo visto ad esempio ieri per ferrari intervistato toto wolf sul passaggio di marca del millennio sempre lo stesso dai hamilton in ferrari norbert aug ex vicepresidente di mercedes scusate non toto wolf si sorprende del tradimento dell'inglese affermando sia un mistero per lui il motivo di questa scelta dal momento che si aspettava che hamilton diventasse capione del mondo per l'ottava volta e in seguito dopo ritiro ambasciatore del marchio mercedes interrogato sulla possibilità di un ottavo titolo in ferrari aug si dimostra possibilista viste anche le attuali qualità atletica del campione pur confermando che sia più facile secondo lui vincere un titolo a 20 anni che a 40 noi ti ringraziamo molto norbert magari l'acqua calda ce la portiamo anche da soli red bull veniamo a red bull conferma che christian horner sarà presente al lancio della rb 20 secondo planet formula 1 nei giorni successivi all'interrogatorio subito venerdì scorso horner sarebbe stato per lui business as usual horner è rimasto quindi in fabbrica milton keys nei giorni successivi all'incontro ha presenziato al film day del quale tanto si sta parlando soprattutto per le supposte somiglianze della vettura con la mercedes v14 e sarà anche presente al lancio i15 parla invece per conto quasi suo bernie eccleston in un post condiviso con la moglie fabiana su ex smettendo nettamente le indiscrezioni della stampa tedesca secondo cui e bernie eccleston stesso avrebbe consigliato a horner di dimettersi in seguito alle accuse quindi altra smentita oggi è il giorno della giornata delle smentite e veniamo manco a dirlo a hamilton stesso che secondo la espn vorrebbe vedere come emozionante e surreale la sua ultima apparizione al lancio di una vettura mercedes gli ha rubato la scena però toto wolf che ha rimarcato la volontà di terminare la collaborazione con lui su un punto positivo da cui l'interesse particolare anche più del solito in azienda verso la vettura di questa stagione secondo team principal all'inizio del 2024 sarà sempre la red bull a condurre le danze ma confida di poter dare battaglia proseguendo con lo sviluppo e da ultimo veniamo a mclaren altra protagonista di giornata zack brown il CEO della scuderia prende la scena quest'anno rimarcando le differenze con la presentazione 2023 presentazione nella quale andrea stella dovette confessare di non aver centrato gli obiettivi di sviluppo per la macchina di quella stagione e sappiamo tutti poi come andata a finire soprattutto nella prima parte dell'anno quest'anno invece i targa di progetto sembrano essere stati raggiunti troppa sicurezza non fa di certo bene così come pure troppe aspettative citofonare ferrari per avere notizie su questo punto tuttavia zack brown punta lo sguardo su una buona stagione condita anche da qualche vittoria un contrapunto gli viene fatto proprio da andrea stella che quasi contraddicendosi sui sui guadagni trovati nel progetto afferma di avere in tasca ancora qualcosa o meglio alcune delle migliorie progettate per la macchina sono state tenute sapientemente nascoste secondo questa interpretazione dalla presentazione e non sono ancora pronte per essere montate sulla vettura che inizierà la stagione di conseguenza anche in questo caso lo sviluppo della vettura è segnato ovviamente anche stella si dimostra un attimo più confidente rispetto all'anno scorso sulle possibilità di benfigurare anche l'inizio della stagione ultima notizia sempre rimanendo in mclaren riguardo al mercato piloti brown conferma che il contratto di norris era firmato ben prima dell'annuncio ma che si stesse soltanto aspettando il rientro del pilota dalle vacanze e con questo anche gli ultimi misteri del prestagione sembrano aver trovato una risposta in attesa del prossimo sconvolgimento ovvio che potrebbe arrivare da orner come sempre io vi raccomando commenti qua sotto per farci sapere quanto questo formato interessante o meno ma soprattutto per porre qualche domanda qualche spunto di riflessione discussione sulle notizie il pollice per farci capire se questo video vi è piaciuto seguire newsforma 1 su tutti gli altri social e su tutti gli altri piattaforme su cui siamo presenti come sempre io non faccio altro che augurarvi una buona serata e alla prossima